Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa di inizio anno scolastico che non posso non cominciare facendo naturalmente gli auguri a tutti quelli che oggi cominciano effettivamente la scuola e le lezioni, anche se la scuola si è già messa in moto da un pochino di tempo, soprattutto gli allievi, le allieve di tutti gli ordini scolastici per i quali è oggi il cambiamento alla fine dell'estate che in qualche modo tanti si attendono, più di quanti non ci si immagina con voglia positiva di tornare a scuola rispetto a quello che è stato il tempo delle vacanze. Naturalmente è un ringraziamento anche a chi oggi in classe starà dall'altra parte, quindi agli insegnanti, sono moltissimi che anche essi cominciano effettivamente le lezioni. Questa conferenza di inizio anno scolastico è dedicata a presentare un po' le novità dell'anno scolastico, di un mondo come quello della scuola che è sempre in movimento, che ha sempre dei cambiamenti previsti. Ed è l'occasione per me di presentare il messaggio che il Governo ha approvato mercoledì scorso e quindi in tempo utile per cominciare un anno scolastico anche sotto il segno delle riforme che riguarda le migliori condizioni di insegnamento e apprendimento nella scuola dell'obbligo. Ora, questo tema è un tema che torna e ritorna perché ricorderete che una decina di anni fa venne lanciata una prima iniziativa popolare, al quale è un'altra perché la primaria è dedicata alle scuole comunali, quindi scuole dell'infanzia e scuole elementari, la seconda delle scuole medie, che hanno due leggi diverse e quindi dovevano essere in qualche modo riformate con due atti diversi, ma il ragionamento era sempre quello legato alla riduzione del numero massimo di allievi. Elemento pensato come tassello importante o condizione importante preliminare per un miglior lavoro dei docenti e per una possibilità di docenti e allievi di fruire rispettivamente dare un insegnamento, un apprendimento più vicino alle esigenze singole dell'allievo. Troppi allievi evidentemente non permettono di ragionare troppo in termini individuali o personali, ma solo per gruppo classe o per grandi gruppi all'interno del gruppo classe. Quindi questo tema è legato a un miglioramento qualitativo della scuola. Quel discorso, le due iniziative popolari, poi ci fu anche un messaggio di controprogetto in diretto del governo che andò in Gran Consiglio credo nel 2013, vennero tutti respinti. Alla fine per un motivo o per l'altro il Parlamento da un lato per quello che era il controprogetto che già proponeva 22 allievi come limite massimo e gli atti popolari che proponevano invece 20 allievi vennero respinti. Benché all'interno della scuola ci fosse sempre stato un grande sostegno a questa misura sia da parte della classe docente sia da parte dei genitori. Poi si è aperto l'altro capitolo, quello sotto il nome La scuola che verrà, un progetto che metteva assieme ancora il ragionamento delle condizioni di insegnamento e di apprendimento ma legate a una serie di altre questioni più pedagogiche e di innovazione pedagogica. Sapete anche lì com'è finita questa questione. Con una votazione popolare del settembre 2018 la sperimentazione non ha potuto partire perché il popolo ha rifiutato il credito per questa innovazione. Il tema però rimane sempre sul tappeto perché il problema rimane. I no non risolvono nessun problema. Dicono che bisogna fare altrimenti ma poi i problemi vanno affrontati. Quindi noi abbiamo ripreso questo discorso con un progetto sicuramente meno innovativo della scuola che verrà, che forse proprio per la sua innovazione ha fatto un po' paura, ma che comunque riaffronta una volta di più, un'altra volta ancora, la questione della qualità dell'insegnamento nella scuola dell'obbligo. Le misure proposte sono sostanzialmente tre. La prima riguarda il numero massimo di allievi alla scuola elementare e media. Il secondo riguarda la codocenza alla scuola dell'infanzia e il terzo riguarda i laboratori del primo bienio di scuola media. Allora riprendiamo un po' questi tre temi uno per uno. Il numero massimo di allievi per classe alla scuola elementare e media è una cosa abbastanza semplice. Oggi abbiamo una parte delle sezioni di scuola elementare e media che supera questo numero, supera il numero di 22 che è l'obiettivo nuovo che vogliamo fissare e sta nella fascia tra 22 e 25 che è l'attuale limite legale, limite che è in vigore da molti anni. Abbassare il limite vuol dire aumentare il numero di sezioni e quindi evidentemente avere più classi sia la scuola elementare che la scuola media. Il calcolo è presto fatto, per la scuola elementare abbiamo 55 classi in più su tutto il cantone, tenete conto del fatto che le classi di scuola elementare oggi sono circa 700. Per la scuola media abbiamo 13 classi in più, anche lì le classi di scuola media sono circa 600. Quindi non sono grandi numeri ma evidentemente l'abbassamento del limite massimo poi riasseste in qualche modo tutti gli altri numeri intermedi e permette di ridurre le classi. Questo discorso che già venne fatto di 22 allievi qualche anno fa per questo discorso non ha avuto luogo una procedura di consultazione soprattutto per la parte comunale perché abbiamo tenuto conto di quello che già allora i comuni avevano indicato, allora parlo del 2013 avevano indicato su questo tema e cioè che la tendenza è comunque quella e c'è una visione positiva verso la riduzione del numero di allievi per classe anche da parte dei comuni che del resto non lesinano a chiedere classi in più appena è possibile. Oggi hanno una certa margine di manovra nella formazione delle classi, parlo degli istituti comunali ma se è possibile per loro chiedere classi in più lo fanno volentieri. Il secondo provvedimento invece riguarda la scuola dell'infanzia ed è un po' più articolato perché la scuola dell'infanzia che in Canton Ticino ha circa 400 sezioni e sono praticamente tutte con refezione, c'è un 4% di queste 400 sezioni che è senza refezione ma generalmente per ragioni di logistica mancante, cioè non c'è in quel comune o in quel consorzio, in quel comprensorio una situazione logistica che permette di stare a mezzogiorno a scuola, mangiare con la maestra eccetera. Quindi abbiamo una quasi totalità di scuola con refezione e tutto questo ci dice che logisticamente ridurre il numero di allievi per classe alla scuola dell'infanzia diventerebbe molto più pesante e difficile perché le classi nel senso logistico non sono disponibili, ci vorrebbe un tempo troppo lungo per averla a disposizione rispettivamente perché come sapete tutte le sezioni di scuola dell'infanzia oggi sono formate da tre piccoli gruppi, sono delle pluriclassi sostanzialmente con i piccoli, i medi, i grandi, quindi i bambini di 3 anni, di 4 anni, di 5 anni e quindi tendenzialmente hanno un numero relativamente che va verso l'altro a dipendenza un po' del miscuglio di questi tre gruppi. C'è in più un'altra questione che si è sempre posta e che viene avanti anche con maggiore insistenza, con delle buone ragioni, che è la situazione del maestro o della maestra perché il 97, 8, 9% sono maestre, hanno un tempo non stop dall'inizio della scuola fino alla fine senza un attimo di pausa, il che può essere piuttosto logorante perché si tratta dalle 8 e mezzo, un quarto alle 9 fino alle 4 del pomeriggio di fare una tirata piuttosto impegnativa. Allora si è pensato di introdurre un ragionamento in termini di miglioramento delle condizioni di insegnamento ed apprendimento attraverso un altro strumento, non quello della riduzione del numero di allievi, quindi che resterà a 25, ma attraverso una parziale codocenza. Parziale nel senso che non potrà essere una codocenza totale perché il costo sarebbe il doppio di quello attuale, quindi non sarebbe possibile. Però abbiamo definito un parametro e quindi l'idea è di avere un docente di appoggio che per una parte della settimana affianca la maestra o i docenti in modo da permettere da un lato di gestire situazioni diverse, quindi anche qui con un occhio all'individualità degli allievi all'accompagnamento personale, dall'altra parte però anche di far tirare il fiato a chi deve stare in classe in maniera impegnativa dalle 8 e mezzo di mattina fino alle 4 del pomeriggio. L'idea di questa codocenza è legata a un'idea di docenti di appoggio che verrebbero cantonalizzati, quindi questi docenti di appoggio non sarebbero dipendenti dei comuni come i docenti titolari ma verrebbero cantonalizzati. Questo seguendo un po' quello che stiamo già facendo con altri messaggi, io ricordo che qualche anno fa è stato cantonalizzato il servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali, adesso i docenti di sostegno che agiscono nelle scuole comunali, quindi scuole alimentari sono cantonali anche se lavorano nelle scuole comunali, è pendente un messaggio per la cantonalizzazione dei docenti di lingua e integrazione, i cosiddetti docenti alloglotti che anche per quella parte che agisce nelle scuole comunali che è la maggioranza dovrebbero passare sotto il cantone e l'idea è di portare sotto il cantone anche i docenti di appoggio alle scuole comunali. Questo perché in questo modo si riesce ad avere maggiore mobilità di questi docenti dipendendo dal cantone, possono essere tra virgolette spostati da una scuola all'altra, nessuno sarà spostato dai rolo a chiasso o viceversa ma diciamo così una mobilità all'interno delle regioni in modo da poter coprire con più efficacia le codocenze secondo il parametro cantonale che viene definito. Naturalmente questo implicherà che sarà il cantone a pagare questi docenti, il che dal profilo dei costi, ma lo vediamo dopo, graverà sul cantone e alleggerirà i comuni. Il terzo elemento di questa strategia parla di scuola media e dei laboratori alla scuola media. I laboratori alla scuola media, ricordo, sono già conosciuti, ci sono già italiani in quarta classe e a scienze naturali in terza e quarta classe. Qui parliamo di laboratori nel primo biegno, il biegno di orientamento, con l'idea di introdurre due ore di laboratori in prima classe in italiano, due ore in prima e seconda classe in matematica e due ore a tedesco in seconda classe. Ricordo che il tedesco alla media comincia in seconda classe, quindi il primo anno di insegnamento del tedesco. Questo serve ancora una volta a modificare il rapporto numerico e quindi anche la dinamica insegnamento apprendimento per tener conto delle esigenze dei ragazzi e naturalmente attraverso le condizioni migliori per i docenti. Questi tre, per quanto riguarda la media, trattandosi di laboratori che toccano il primo biegno, non andiamo a toccare la questione che rimane pendente e aperta dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista dei livelli. Era una delle questioni toccate e discusse durante la scuola che verrà. Questo progetto non la tocca, intendiamo tornarci ma lo torneremo in maniera separata e diciamo così al di fuori di quello che stiamo presentando oggi. Quindi tre elementi importanti, anche un investimento importante per la scuola dell'obbligo, per migliorare le condizioni di apprendimento e di insegnamento che speriamo possano in qualche modo avere un seguito. I costi, credo che ci sia una descrizione dei costi. Naturalmente questi interventi non sono dall'oggi al domani perché hanno tutti una serie di presupposti, per esempio anche la formazione di nuovi docenti a cui sarà necessario provvedere perché non ne abbiamo a sufficienza per inserire un numero importante di nuovi docenti come quelli previsti dal progetto, ma l'idea è che comunque questo costo a regime si attesti attorno ai 17,4 milioni per il cantone, per i comuni all'inizio c'è un piccolo guadagno, alla fine c'è un piccolo costo che non arriva neanche al milione di 0,8 milioni, benché un intervento importante sia proprio nelle scuole comunali, ma ripeto il grosso viene fatto a carico dell'ente cantonale. Quindi questo è il grosso del sistema, io credo che se facciamo volgiamo un po' anche lo sguardo a quello che si è discusso durante la campagna elettorale dove la scuola è stato uno dei temi importanti di discussione e dove anche la questione del numero di allievi, malgrado fosse già stata affrontata in precedenza, sia stata indicata da diversi, anche persone che più in là nel tempo avevano sempre detto di no a questo provvedimento, come uno degli elementi importanti su cui discutere, credo che oggi ci potrebbero essere le condizioni per fare questo passo. Mi auguro che poi il Parlamento seguirà su questa strada. Evidentemente non abbiamo bisogno di una discussione che duri anni e anni, i concetti sono piuttosto chiari e definiti. Per cominciare davvero con i laboratori il prossimo settembre e con gli altri provvedimenti nel settembre 2021 bisogna che questa discussione avvenga nei prossimi mesi e non in maniera sfilacciata o troppo lunga. Bene, questo credo che sia il punto centrale di questa presentazione di oggi, ma ce ne sono diversi altri. La scuola è fatta di tante cose, abbiamo fatto una scelta per il secondo tema e altri temi più relativi alla divisione della scuola. Passo la parola adesso a Emanuele Berghi. Grazie, buongiorno a tutti, anche da parte mia. Io parlerò di alcune cose, alcune più semplici, altre comunque più complesse, anche nel nostro caso c'è una certa riorganizzazione di un settore di cui parlerò. La prima cosa, un piccolo resoconto di quello che è successo è in agosto, anche quest'anno, il 22-23 agosto si è tenuta la quarta edizione degli atelier estivi per i docenti della scuola obbligatoria. Questi atelier erano denominati alla scoperta di buone pratiche e hanno coinvolto circa mille docenti della scuola dell'obbligo e cento relatori a loro volta tutti docenti. Lo scopo era quello di condividere delle buone pratiche didattiche che svolte nelle aule del canton ticino e quindi è stata un'occasione in cui i docenti di tutta la scuola obbligatoria, quindi qui parliamo di circa un terzo di tutti i docenti della scuola obbligatoria, hanno condiviso con colleghi le proprie esperienze didattiche che sono tutte state sviluppate nel quadro del nuovo piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese. Ho seguito personalmente alcuni atelier, ovviamente non tutti perché erano moltissimi e devo dire ho potuto apprezzare una grande qualità, una grande professionalità dei docenti e devo dire anche un grande entusiasmo nel proprio lavoro, tutto ciò va incomiato e mi sento di dire che è un buon augurio per l'anno scolastico entrante. Tutto il materiale lo si può trovare in un link che dovrebbe essere visibile, eccolo lì, atelier, quindi si può scaricare materiale, l'opuscolo che è stato distribuito e anche proprio il materiale didattico, questo che vale per i docenti. Già che siamo in tema di eventi, anche se non è nelle slide, vorrei ricordare e annunciare, ma ci sarà poi un comunicato ad hoc, che a fine settembre, 27-28 settembre, ci sarà la quarta edizione del Festival dell'Educazione, trovate un deployo lì, il tema quest'anno è la fiducia, come sempre è un'occasione molto apprezzata, in questo caso fatta un po' fuori dal contesto scolastico, quindi al teatro di Bellinzona e nella sala del Consiglio Comunale, con ospiti sempre molto interessanti e qualificati, ecco quest'anno l'apertura sarà tenuta da Michela Murgia, per cui l'invito è a partecipare e a diffondere anche questa notizia. La terza cosa che vorrei dire è parlare dell'agenda scolastica, quindi come consuetudine che avete ricevuto anche nella vostra cartella, come consuetudine, il DEX in collaborazione con il DSS, il Dipartimento Sanità e Socialità, ha curato anche quest'anno la concezione e la realizzazione grafica dell'agenda scolastica ufficiale. Gli aspetti da sottolineare sono questi, che come sempre è distribuita gratuitamente a tutti gli allievi nel corso dei primi giorni di scuola, ma normalmente era destinata alle scuole medie, per la prima volta l'agenda sarà distribuita non solo agli allievi delle scuole medie, come in passato, ma anche a tutti quelli delle quinte elementari, degli istituti comunali, delle scuole speciali, oltre che agli allievi di primo anno delle scuole medio superiori e sarà anche a disposizione delle scuole professionali. Quindi c'è questo, è interessante che il filo conduttore di quest'anno sarà il tema dei diritti dell'infanzia, perché cade il trentesimo anniversario della firma della Convenzione dell'ONU sui diritti dei fanciulli. Quindi il leitmotiv è questo, la potete vedere, è una grafica che a me piace, interessante, attuale, è un tema importante, ricordo che da sempre l'agenda scolastica vuole essere anche un vettore per passare dei messaggi e anche per aiutare i ragazzi che hanno interesse o anche delle difficoltà a capire dove rivolgersi. E l'ultimissima cosa sull'agenda, collabora, era già iniziata l'anno scorso, continua la collaborazione con Rete3 della RSI che organizzerà degli spazi di approfondimento con gli allievi sul tema dei diritti del fanciullo che sono anche i temi dei diritti degli anni. Altro cambio tema, allora quest'anno sono cambiati i nomi dei circondari scolastici delle scuole comunali, prima se volete tecnico ma che attendevamo da tempo, prima avevamo storicamente molti più circondari, 8, 9, cioè suddivisi in numeri, non era sempre facile capire il tal numero a quale circondario si rifacesse, quest'anno abbiamo a seguito della fusione dei due circondari, adesso noi ne abbiamo quattro, vedete Belinzonese Valli, Lucarnese Valli, Luganese, Menderisiotto e Basso Ceresio, ogni ispettorato ha un ispettore e un vice ispettore, due nel caso del Luganese che è particolarmente popoloso e poi all'interno ci sono anche le chip del sostegno pedagogico, quindi questa è un'informazione sul cambiamento di nomenclatura dietro la quale comunque c'è anche una riorganizzazione, un cambiamento della struttura organizzativa. Altro tema è legato all'inclusione, alla scuola speciale, nell'anno scolastico prossimo sono previste 6 sezioni inclusive della scuola dell'infanzia, 7 classi inclusive di scuola elementari e 2 classi inclusive della scuola media. le classi inclusive sono classi regolari nella quale vengono inserite dei ragazzi e dei bambini con bisogni speciali accompagnati anche da docenti specializzati, queste sono delle esperienze che da parecchi anni sono in corso e per le quali ci sono sempre buoni riscontri sia da parte degli allievi, di tutti, delle famiglie e dei docenti. Tutto questo si sta sviluppando anche accanto a quello che sono inserimenti individuali con esigenze particolari, non necessariamente in classi inclusive ma comunque in classi regolari sostenuti da operatori pedagogici per l'integrazione, quelli che vengono chiamati normalmente OPI e abbiamo avuto un ulteriore incremento di ore date a disposizione di queste OPI che di oltre 300 ore nello scorso anno. Metà delle ore alla scuola elementare è un elemento che denota l'importanza e l'utilità di quello che è un servizio specialistico all'inizio del percorso scolastico. Ecco poi veniamo a un tema un po' più complesso che è quello della griglia oraria del liceo. Allora io adesso espongo i principi, faccio un po' il punto della situazione e poi vi insegnano, è in sala anche Daniele Sartori, il capo della sezione dell'insegnamento mondiale superiore che poi per domande o in sala o anche fuori sarà disponibile per fare degli approfondamenti di questo tema che è particolarmente complesso. Allora, le premesse sono queste. Nel 2016 la CDPE, la conferenza dei direttori della pubblica educazione svizzera, ha emesso delle raccomandazioni affinché i cantoni elaborassero delle direttive che potessero garantire che tutti gli allievi liceali acquisissero le competenze di base nella lingua prima e in matematica. Nel 2018, sempre la CDPE, ha deciso di introdurre l'informatica come materia obbligatoria nella formazione liceale a partire dall'anno scolastico 2022-23 e l'altra premessa è stata nel 2017 in Ticino la mozione Barella in cui la commissione speciale scolastica ha chiesto di rivedere la griglia liceale per facilitare l'approccio alle materie comunemente chiamate scientifiche permettendo un avvicinamento più graduale. Questo perché attualmente esiste una sorta di blocco in cui uno nel primo bienio deve affrontare tutte queste materie e può essere un problema per chi magari non è particolarmente ferrato. Quindi si è proceduto in questo modo è stato costituito un gruppo di lavoro nel 2018 composto da Daniele Sartorica a posizione Sims e da tutti i direttori dei licei e il direttore della scuola di commercio quindi sette persone in tutto tutti appunto molto vicini a quelle che sono le problematiche del terreno e soprattutto organizzative di una scuola. Hanno valutato punti positivi, punti negativi di quella che è la griglia oraria attuale e ecco particolarmente tra i negativi per esempio può essere citato quello che ho detto prima e anche le materie che avevano una sola ora settimanale di cui molti poi si lamentavano e il blocco e poi è stato notato anche che le opzioni avevano diverse dotazioni orarie e questo era un problema. Quindi il gruppo ha cercato di identificare i principi su cui basare una nuova griglia e confrontandosi, questo va detto con gli esperti di materia, con i docenti, i membri delle direzioni scolastiche, ha individuato un po' questi principi che devono essere garantire l'attitudine alle studi universitari, rinforzare l'italiano e matematica come discipline portanti, valorizzare la forma didattica dei laboratori, l'abbiamo già vista prima per la scuola media ma anche al liceo, dare la stessa dotazione oraria alle materie, alle opzioni specifiche, suddividere le ore in maniera equilibrata sul quadriennio evitando dei blocchi eccessivi e non superare un carico settimanale di 35 ore per tutti i curriculum di studio, cosa che non è poco, 35 ore. Quindi il gruppo ha fatto una proposta di griglia, la proposta è data in consultazione a maggio del 2019, sono stati consultati tutti i gruppi disciplinari e ha risposto all'80%, allora generalmente è emersa la condivisione dei principi di questa griglia e soprattutto la questione dell'italiano e il valore didattico del laboratorio sono cose che sono state apprezzate, però come ben sapete sono emerse anche delle criticità e quindi il gruppo ha elaborato adesso delle proposte. Una criticità era l'aumento del carico di lavoro degli allievi e quello che risponde del gruppo è che l'elaborazione dei piani di studio, considerato l'ampliamento della forma del laboratorio a metà classe e la dotazione oraria per alcune materie, dovrà incrementare il lavoro in aula e non aumentare gli argomenti di studio previsti, questa è la cosa importante. Faccio l'esempio di matematica, cosa che è stata da alcuni criticata di avere un'ora in più ed effettivamente potrebbe costituire un problema perché già la matematica insomma è importante, mettiamo un'ora in più e quindi aumentiamo il programma sarebbe un problema, ecco la ferma intenzione non è quella di aumentare materie e quindi difficoltà ma di mantenere esattamente lo stesso piano di studio ma grazie alla forma dei laboratori aiutare di più, quindi avere più spazio di apprendimento dentro l'orario scolastico, questa è la risposta del gruppo, c'era anche così per come era stata formulata la prima proposta si parlava di una perdita del ruolo di orientamento e di propedeuticità del primo anno e il gruppo qui ha chiarito meglio anche perché appunto forse non era chiarissimo il concetto nel primo testo però che tutti gli allievi di prima liceo continueranno ad avere la possibilità di fare la quarta lingua che è indispensabile poi poter scegliere una seconda lingua come opzione specifica e anche di scegliere fisica quindi lingua e o fisica liberamente sceglibile e quindi dare la possibilità di mantenere questa natura appunto propedeutica del primo anno. L'altro tema che è emerso parecchio è quella della perdita di un'ora di geografia, ricordo questo l'ora di geografia il problema di base era che c'era l'ora singola e quindi questo anche creava un problema, la risposta del gruppo è quella di introdurre un laboratorio di geografia a classe dimezzata in terza e quindi dando maggiore possibilità per comunque apprendere meglio la materia e fare delle attività sperimentali sul territorio e quindi questo sarà la risposta che è già stata presentata tra l'altro come tutte quelle di cui sto parlando nei vari pleno dei licei e poi ci saranno naturalmente tante altre proposte da approfondire nei gruppi di lavoro. Quindi i prossimi passi adesso si adatterà la proposta del piano settimanale a seguito della consultazione, verranno istituiti dei gruppi disciplinari cantonali che dovranno modificare i piani di studio in base a questa nuova griglia, si continuerà il dialogo che è è stato aperto subito con la consultazione con i collegi dei docenti per avere un confronto e ci sarà un'informazione regolare da parte della SIMS. Quindi la tempistica è la revisione dei piani di studio che avverrà adesso e poi dal 2020, anno 2021, l'implementazione graduale del nuovo piano settimanale delle lezioni e dei nuovi piani di studio. Quindi un avvicinamento e ricordo che appunto l'anno seguente del 2022 deve essere pronta l'informatica per tutti. Bene, passo ad un altro tema che è quello della digitalizzazione che il DEX promuove in generale ma in particolarmente con il CERD, il Centro di Risorse Didattiche Digitali che è questo centro di competenza creato alcuni anni fa che si occupa di una serie di cose che adesso illustro, sicuramente una fondamentale di cui abbiamo già parlato è l'attuazione del master plan per la digitalizzazione della scuola ticinese, stanno iniziando i primi lavori nelle sedi scolastiche e ricordo che si basano sulla decisione del Consiglio di Stato e del Parlamento che hanno stanziato un credito di investimento complessivo di 47 milioni di franchi per questa informalizzazione, quindi un progetto estremamente ampio e incisivo. Verrà anche qui, ci sarà una comunicazione, però verrà aperto e inaugurato la nuova sede del CERD a Bellinzona, vicino alla scuola di commercio. In questo nuovo centro, oltre a tutti quelli che sono i tradizionali servizi tecnologici e non, ci sarà anche il LAD, il Laboratorio di Artigianato Digitale di cui abbiamo una sede già a Mendrisio, alla Finlanda, che ha un grande successo, quindi c'è sempre una lista d'attesa di scuole, di classi per partecipare a queste attività e quindi il progetto innovativo prevede veramente una completa integrazione dei due servizi in questione, CERD e l'ADE, che saranno poi a disposizione anche della popolazione. Questo ne riparleremo al momento poi dell'inaugurazione. Ci stiamo occupando anche attraverso un gruppo di lavoro che coordina il CERD di adeguare il piano di studio per le competenze in media e tecnologia per la scuola obbligatoria. Ricordo che il piano di studio già prevede questa dimensione, ma nella prima fase ci si è concentrati molto di più sulle discipline tradizionali, un po' meno su questo e adesso si tratta di un po' di rincorrere a questo aspetto per arrivare a un modello che sia articolato e robusto. E poi il CERD si sta occupando anche di sviluppare interventi nell'ambito di quello che è l'uso consapevole delle tecnologie nella scuola, quindi sapere delle tecnologie, ma soprattutto dei social media, eccetera. Anche qui sono già in atto, ma verranno sviluppate in anteriori proposte. Bene, vi ringrazio. La mia parte è finita. Quindi adesso passiamo la parola a Paolo Colombo per la formazione professionale. Bene, grazie. Buongiorno a tutte e a tutte. Alcune informazioni dal settore della formazione professionale per l'anno scolastico 19-20 che si apre oggi. Allora, da prima alcune considerazioni in termini generali. Noi non abbiamo ancora chiuso i numeri delle persone che hanno iniziato la formazione e che iniziano la formazione quest'anno perché ci sono ancora dei movimenti in corso. Comunque stimiamo la sostanziale stabilità dei numeri delle persone che inizieranno una formazione professionale di base e superiore nel corso di quest'anno. Seconda considerazione i due terzi dei giovani che concludono la scuola dell'obbligo intraprendono, si inseriscono direttamente o successivamente in un percorso di formazione professionale di base. Ricordo che noi abbiamo circa 3.000, 3.500, 3.600 contratti di tirocini o persone che iniziano una formazione professionale di base meno o grosso modo la metà provengono direttamente dalla scuola media. La parte restante invece ha inserito un anno o più anni di transizione o hanno già maturato un'esperienza in un altro ambito sempre della formazione professionale. Terza considerazione è che in prospettiva futura sempre più giovani tendenzialmente, dopo aver concluso un apprendistato, tendenzialmente proseguiranno i loro studi in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria o professionale o approfitteranno di questa permeabilità del sistema educativo svizzero per proseguire gli studi anche a livello universitario. Questa è una tendenza che si delinea sia sul piano cantonale sia su quello federale alla quale saremo chiamate a dare delle risposte attraverso l'organizzazione, lo sviluppo anche di quello che sarà la formazione continua e delle specializzazioni. In questa lastrina ho anche elencato circa 20 scuole, 20 istituti attivi nel nostro cantone più due istituti particolari, l'istituto transizione e sostegno sul quale tornerò fra poco, l'istituto della formazione continua, sono circa invece 2.500 le aziende che si impegnano a formare apprendisti e abbiamo e contiamo circa 12.000 persone in formazione. Nella parte alta della lastrina vedete che queste circa 11.000, 10.000 persone, 10.000 persone scusate, che iniziano una formazione professionale di base, due terzi di loro, questi 6.600 che trovate in alto a sinistra, seguono una formazione professionale di base nel sistema duale, dunque in azienda, nella quale vengono impartite le conoscenze e le abilità pratiche, in una scuola professionale di base, per quanto concerne le conoscenze professionali e la cultura generale e il terzo luogo di formazione nei corsi interaziendali che integrano la formazione professionale pratica impartita in azienda e la formazione scolastica. Sulla destra trovate 3.500 persone invece che seguono un percorso in una scuola professionale a tempo pieno, scuole di arti e mestieri, scuola specializzata a professioni sanitarie e sociali, scuole medie di commercio ad esempio. Sotto trovate un altro numero, 1.300, 1.300 sono le studentesse e gli studenti che seguono un percorso di scuola specializzata superiore, sono gli infermieri, i tecnici, i saloperatori, la radiologia medica, sugli albergatori, gli informatici di gestione, gli economisti aziendali, i conduttori dei lavori. Dunque una formazione a livello terziario non universitario. E torniamo sulla destra, avete circa 300 persone che si inseriscono o trovano uno sbocco o un seguito all'interno dell'istituto della transizione e del sostegno, dunque le offerte del pretirocinio di orientamento, che sono circa attorno ai 200-230 persone, e il pretirocinio di integrazione. Il pretirocinio di orientamento, lo ricordo, è dedicato a quei giovani che alla fine della scuola dell'obbligo non hanno maturato una scelta oppure non hanno trovato ad esempio un posto di apprendistato. Volevo citare anche in basso a destra, trovate 166 giovani che sono seguiti dal gruppo operativo Collocamento a tirocinio, un gruppo operativo che si compone di rappresentanti della divisione della formazione professionale, dell'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, delle misure attive, delle organizzazioni del mondo del lavoro, che hanno il compito di seguire, di accogliere, di seguire quei giovani che allo stato attuale, in questo momento, non hanno ancora trovato un posto di apprendistato, sono ancora alla ricerca dell'inizio di una formazione professionale di base che risponda alle loro esigenze, ambizioni e capacità. Sono 166 giovani di età compresa, sono nati fra il 2000 e il 2003 e sono stati accolti complessivamente il 20 agosto e saranno seguiti, sono seguiti di uno ad uno e con l'obiettivo di collegarli tutti in un apprendistato o in un'offerta transitoria. Mi fermo qui perché sapete che nel corso del mese di fine ottobre, inizio novembre, noi prevediamo sempre un momento di riflessione o di riscontro dei lavori di questo gruppo operativo Collocamento a tirocinio, lì potremo essere più precisi e faremo un bilancio definitivo della campagna di collocamento e dell'inserimento dei giovani e delle giovani nella formazione professionale di base. Abbiamo un anno anche molto particolare, molto intenso, prevediamo sulla fronte degli eventi che abbracciano la formazione professionale, dunque per conoscerla meglio, conoscerla di più, per avvicinare i giovani, incuriosirli, loro e le loro famiglie, ma anche i datori di lavoro. Comincio dalla fine, in alto a destra trovate i sui skills 2020, credo che non ci sia bisogno di dire molto, lo conoscete, è un evento molto importante che ha avuto luogo nel 2018, l'ultima volta, la prossima edizione. Si svolgerà nel 2020 a Bern Expo con oltre mille giovani professionisti che si confronteranno e presenteranno in uno straordinario scenario le loro professionalità rispettivamente ci sarà l'occasione di conoscere queste professioni. Tornando verso settembre e ottobre, dunque ci saranno anche dei momenti di informazione, qui abbiamo citato gli sport, ma non sono gli unici nel mese di settembre e di ottobre. Dal 10 al 12 ottobre 2019 avranno luogo al centro di formazione professionale di Gordola, i campionati regionali delle professioni in vista di sui skills 2020. È un bel momento in cui si ha la possibilità di entrare in contatto con queste professioni dagli autisti ai falegnami, gli installatori elettricisti, i meccanici di macchine agricoli, i metalcostruttori, i muratori, nell'ambiente in cui loro lavorano. Si può toccare veramente con mano le loro professioni e il centro di formazione professionale della società svizzera, degli impresari e dei costruttori, profiterà anche di aprire completamente le proprie porte verso il pubblico, dunque i giovani e le loro famiglie. A fine anno, inizio gennaio, è prevista l'apertura della città dei mestieri, dunque questo bel progetto in cui troveremo delle aree molto importanti come orientarsi, vivere l'apprendistato, trovare un posto di lavoro e perfezionarsi e riqualificarsi. Un progetto ambizioso che, ripeto, aprirà le porte a gennaio 2020, fine di quest'anno, inizio gennaio 2020, qui a Bellinzona. Un'altra novità è da gennaio-aprile 2020, i centri professionali che fanno capo alla nostra divisione apriranno le porte per momenti di incontro, di informazione, vi assicuro che entrare in un centro professionale di Trevano col polo dell'alimentazione oppure a Mezzana nel centro professionale del Verde, diventa assolutamente interessante, si vede quali sono le professioni che si possono imparare in questi ambiti. Altro evento principe dell'agenda del Dipartimento è Espo Professioni, ricordo avrà luogo dal 9 al 14 marzo 2020, questa straordinaria vetrina che affianca, lo vedete, questo fil rouge degli eventi che ci accompagneranno sull'arco del prossimo anno. Abbiamo dei lavori in corso molto importanti, molto significativi, un aspetto sul quale abbiamo sempre lavorato, dire il vero, sul quale lavoreremo ancora di più è da un lato il più duale, dunque offrire ancora più occasioni ai nostri giovani di trovare un posto di apprendistato perché sappiamo che fra i 166 giovani, ad esempio, che non hanno trovato un apprendistato ce ne sono alcuni che non lo hanno trovato perché non c'è il posto di tirocinio desiderato. Dunque si tratta di fare in modo di abbinare bene la domanda e l'offerta e questo puntando, lo sottolineo sempre con piacere, su questo partenariato che noi come ente pubblico abbiamo con le associazioni professionali con le quali si lavora per fare in modo di trovare e di offrire un numero sufficientemente ampio di possibilità di formarsi, dunque di posti di apprendistato e interrogandoci anche assieme al mondo del lavoro su quelle che saranno le professioni del futuro, ampliando e diversificando anche l'offerta formativa al sud delle Alpi, attraverso anche, stiamo lavorando con SUPSIC con una migliore conoscenza assieme alle organizzazioni del mondo del lavoro, del mercato del lavoro. Secondo obiettivo fondamentale, obiettivo 95%, dunque un obiettivo della conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione e della confederazione e dunque portare il 95% dei giovani a ottenere un diploma di livello secondario, dunque dal certificato federale formazione pratica all'attestato federale di capacità a una maturità di tipo liceale. Questo è un obiettivo molto ambizioso sul quale però dovremo lavorare attraverso un rafforzamento della nostra offerta formativa ma soprattutto per fare in modo di non perdere giovani per strada, dunque quando si parlava anche nel collega Emanuele Berga nel settore medio dunque di fare in modo di avere l'integrazione la più ampia possibile, l'inclusione più ampia possibile che trovi corrispondenza anche nel settore professionale e anche nel passaggio dalla scuola dell'obbligo alla scuola post obbligatoria. Ultimo tema è la promozione ma la promozione fa riferimento alla lastrina che vi ho presentato poc'anzi. Concludo con l'ultima lastrina, sfide e opportunità, stiamo riflettendo sia sul piano nazionale con formazione professionale 2030 sia sul piano cantonale sui grossi temi che siamo chiamati ad affrontare uno per tutti è la digitalizzazione accennata dal collega Berger dunque con i lavori di questo centro, il CERD che sta facendo assolutamente un lavoro straordinario anche a sostegno delle nostre scuole, dei luoghi di formazione perché ricordo che noi operiamo nelle scuole, nelle aziende, nei corsi interaziendali e anche a sostegno del mondo del lavoro che ha bisogno di personale qualificato anche ricorrendo in prospettiva già adesso ma sempre di più anche in prospettiva futura forme di modulorizzazione e di flessibilizzazione della formazione e magari lavorando anche di più, accennavo poc'anzi, nella transizione, senza magari, lavorando anche di più nella transizione 1 dalla scuola dell'obbligo alla scuola obbligatoria con dei programmi ad hoc che ci consentono di sviluppare anche maggiormente determinate competenze trasversali. Partenariato con l'organizzazione del mondo del lavoro e le aziende, qui si lavora bene assieme, facciamo il modo di lavoro ancora meglio nell'interesse dei nostri giovani e concludo con un'informazione o una riflessione, le sinergie, le collaborazioni, spesso si parla di aziende formatrici dunque di mondo del lavoro, non dimentichiamo che nel mondo del lavoro un ruolo anche importante lo assume lo Stato, lo Stato come datore di lavoro, come formatore di apprendiste, lo Stato e i comuni che fanno anche un ruolo, svolgo anche un ruolo importante in questo ambito. Grazie. Docenti, sottolineerei anche la funzione importante dei genitori anche per loro comincia l'anno scolastico e per alcuni che hanno in qualche modo la volontà di stare particolarmente accanto ai loro figli, è un impegno non da poco. Insomma tutta la nostra società da oggi cambia marcia, entra in un altro momento dell'anno e questo ci accompagnerà fino a giugno dell'anno prossimo. Siamo aperti adesso alle domande sui vari temi che abbiamo affrontato. Per quanto riguarda il fabbisogno di docenti, se avete già stimato quanti docenti in più serviranno per tutti quelli che sono appunto i progetti presentati e ecco prima di tutto questo e come già detto anche dal direttore del DEX la riduzione del numero degli allievi è un tema che era già stato affrontato anche negli scorsi anni perché diciamo così questa volta dovrebbe passare. Ecco, grazie. Ma diciamo per la questione fabbisogno sì il tema è sempre monitorato, abbiamo un accordo con il CIRS e della SUPSI per fare questo lavoro, adesso abbiamo gli ultimi dati che sono stati recentemente presentati e si combinano comunque con le necessità di più docenti dovute al messaggio 22 allievi che prevede anche una parte di finanziamenti proprio per il DFA perché abbiamo bisogno di avere più docenti quindi è anche per questo che non sarà possibile cominciare subito con la riduzione a 22 allievi tenuto conto del fatto che il tempo necessario per avere più docenti sarà necessario e è necessario prevederlo quindi possiamo dire che in generale stiamo piuttosto bene, alle medie abbiamo sempre il problema diciamo così sul medio periodo conosciuto ma è un po' una questione storica del docente di tedesco, non sono moltissimi, dove diciamo lì la domanda di docenti e l'offerta di docenti è piuttosto vicina e questo evidentemente può essere un problema rispettivamente alla scuola dell'infanzia ma con questo nuovo progetto legato al messaggio lì si dovrà aumentare la formazione di docenti in scuola dell'infanzia che ci sarà più posto al DFA quindi stiamo lavorando in questa direzione. Per quanto riguarda il fatto del perché la terza volta deve funzionare quello che è una ha funzionato prima ma questo non sono domande diciamo così di profezia ecco io faccio il mio mestiere che non è quello di fare profezie ma di cercare di fare in modo che le cose cambino poi se questo paese decide di rimanere sempre uguale e di andare ancora a cavallo va bene prendiamo ne atto, ne prenderemo atto ma io sono anche pagato perché continuare a insistere su quelli che sono i veri problemi della scuola e la questione qualitativa legata alle condizioni di apprendimento e insegnamento è un vero problema della scuola e lo abbiamo visto anche dopo la scuola che verrà tutta una serie di persone che ancora oggi ti dicono ma ma si doveva far qui si poteva far là io non so quante volte ho risposto guardate che quella roba lì noi ce l'avevamo pronta era lì ma poi se non è passata in votazione popolare cosa doveva farci purtroppo così è andata spero, confido sul fatto che questo discorso possa magari essere tolto da un confronto in qualche modo anche più politico in senso negativo e più legato invece a quello che deve essere fatto per la scuola e quindi credo, spero che sia la volta buona per fare un ragionamento che alla fine va a favore delle giovani generazioni per cui non è un problema mio o un problema dei docenti o della scuola è un problema di che investimento questa collettività vuol fare per le sue giovani generazioni altre domande se non è il caso, grazie mille